Promuovete la giusta sinodalità e ricordate che la misericordia effettiva di Dio è diventata in Gesù misericordia affettiva, essendosi egli fatto uomo per la salvezza degli uomini. È l'esortazione che Papa Francesco ha rivolto ai membri della Congregazione per la Dottrina della Fede, ricevuti in occasione della loro sessione plenaria. Nel contesto dell'anno santo straordinario, il Pontefice ha auspicato che il di Castero proceda nel suo lavoro delicato, sostenuto dalla forza dello Spirito Santo che sempre permette alla Chiesa di rinnovarsi, anche in un tempo di cambiamenti rapidi e di crescente complessità delle problematiche. In un'Europa che rischia di perdere il suo spirito umanistico, Papa Bergoglio ha infine ricordato che alla sera della vita ci sarà chiesto se avremo dato da mangiare a chi ha fame e da bere a chi ha sete e ugualmente ci sarà domandato se avremo aiutato le persone a uscire dal dubbio, se ci saremo impegnati ad accogliere i peccatori, se saremo stati capaci di combattere l'ignoranza, soprattutto quella riguardante la fede cristiana e la vita buona. La fede cristiana, infatti, non è solo conoscenza da conservare nella memoria, ma verità da vivere nell'amore. Perciò, insieme alla dottrina della fede, bisogna custodire anche l'integrità dei costumi, particolarmente negli ambiti più delicati della vita. La adessione di fede alla persona di Cristo implica sia l'atto della ragione, sia la risposta morale al suo dono. A questo riguardo vi ringrazio per tutto l'impegno e la responsabilità che esercitate nel trattare i casi di abuso di minori da parte dei chierici.